A spasso lungo la strada del Miglio d'Oro, con le sue ville vesuviane e l'antica città. Anche il Colanno aderisce domenica 31 ottobre alla 18esima giornata nazionale del trekking urbano, che quest'anno ha come titolo una sana follia alla scoperta del territorio attraverso i suoi bizzarri personaggi. L'iniziativa, che coinvolge 76 comuni italiani, è un percorso adatto a tutte le età, a passalento per scoprire strade, borghi e circuiti meno noti, ma altrettanto affascinanti dal punto di vista artistico e culturale. E così il Colanno propone un itinerario lungo la storia alla scoperta del Miglio d'Oro. Il tour prenderà il via alle 10.30 dal parco inferiore di Villa Favorita, poi si proseguirà lungo il Miglio d'Oro dove spicca Villa Campolieto tra le più suggestive delle ville vesuviane. A pochi passi dagli scavi archeologici si potrà visitare il MAV, Centro di Cultura e di Tecnologia. L'itinerario si conclude all'entrata storica del parco archeologico, dove è possibile ammirare dall'alto l'incanto della città antica cristallizzata nel tempo dall'eruzione del Vesuvio. Crediamo in questo modo di allargare ancora di più l'offerta turistica del territorio, implementando anche un percorso alla riscoperta della città da fare a piedi, scoprendo altri scorci e bellezze della nostra Ercolano, spiega il sindaco Ciro Bonaiuto. E domenica per l'occasione le guide dell'Associazione L'Emozione della Bellezza accompagneranno gratis i partecipanti. Per prendere parte alla visita guidata gratuita e obbligatorio prenotare inviando una mail a turistico-comune.ercolano.na.it ed essere muniti di Green Pass.